mister pazienza partiamo da un dato con tre turni di anticipo il cerignola e playoff niente male per una neopromossa sì sono d'accordo un risultato importantissimo un risultato che non si aspettava nessuno nemmeno noi nei primi giorni di ritiro in cui comunque è cominciato a comporsi questo gruppo di lavoro questa squadra che comunque ha avuto un percorso sino ad oggi eccezionale ottenendo dei risultati importantissimi e come hai appena detto ha raggiunto con tre giornate d'anticipo il secondo obiettivo che è un qualcosa di straordinario un qualcosa di storico e che ci fa ben sperare insomma per il futuro è stata una partita che ha vissuto di fasi più cerignola fino alla mezz'ora più potenza nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo con il rigore poi parato da saracco più cerignola nella prima parte del secondo tempo avete segnato avete rischiato di raddoppiare e poi cos'è successo succede sempre così che ci sono diverse fasi delle della partita dove chi è più bravo a sfruttare le situazioni gli episodi che si vanno a creare all'interno di eds alla fine porta a casa i risultati importanti nella fase in cui noi siamo riusciti a creare delle situazioni tipo anche quella di zac dove si è ritrovato davanti alla porta sul cross di russo ed era un rigore in movimento e secondo me lì si poteva fare si poteva fare meglio poi c'era stata un'altra situazione con luca russo che è arrivato al doppio tiro sempre lì nell'area di rigore e non siamo stati insomma bravi e cattivi a determinare a incidere dopo di che di fronte avevamo una squadra ben attrezzata organizzata e ben allenata che è venuta fuori creandoci delle difficoltà inizialmente con il tiro di murano dove è stato secondo me molto bravo saracco e nella seconda circostanza del calcio di rigore dove si è si è saltato in facendo una parata secondo me strepitosa da una categoria diversa e quindi è stato è stato molto bravo a tenerci dentro la partita nel secondo tempo iniziato in maniera eccezionale trovando subito il gol con una prima azione eh dove i ragazzi hanno trovato delle combinazioni e delle linee di passaggio importanti andando a a trovare secondo me un un capolavoro e e poi dopo di quello sono hanno provato a cercare a trovare quegli episodi che potessero darci il doppio vantaggio e quindi di portare la 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 partita a casa non ci siamo non ci siamo riusciti siamo stati eh meno bravi in quella in quel frangente in quella fase della partita e poi e poi secondo me ehm che poi la cosa che mi fa più arrabbiare abbiamo preso gol su un piazzato che si poteva sicuramente evitare e e poi con un pizzico di attenzione in più avremmo comunque potuto portare la la partita a casa eh è chiaro che se non chiudi la partita il pericolo rimane sempre fino al 95esimo e come spesso succede nel calcio se non la chiudi poi vieni 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 penalizzato ed ed è andata così poi ci è andata anche abbastanza bene perché Saracco ha fatto un ulteriore intervento sul 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 Murano eh su una ripartenza del del potenza e quindi insomma tutto sommato alla fine credo che il pareggio potrebbe potrebbe essere il risultato più giusto. Si è sbloccato Samele forse era stato il più pungolato da lei nel primo tempo visto che spesso cercava di dare indicazioni i due attaccanti? Eh no insieme a lui ho cercato di eh di stimolare di dare indicazioni il più possibile eh anche a Malcore ed erano i due attaccanti che eh non mi stavano piacendo nella nell'arco della partita perché eh nel momento in cui riuscivamo a trovare degli spazi alle spalle del mediano loro eh acceleravano troppo velocemente la 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 giocata e cercavano di farla comunque sempre di prima e chiedevo di di un tempo di giocata in più per far sì che che i giocatori eh predisposti agli inserimenti all'attacco dello spazio avessero più tempo per per poter guadagnare il campo. 270 minuti di qui a fine regular season con che spirito si affrontano? Con uno spirito battagliero che che ci ha portato oggi a raggiungere il secondo traguardo eh straordinario dopo la salvezza con tre giornate d'anticipo oggi matematicamente questa squadra è arrivata a qualificarsi per i per i playoff eh e non dobbiamo non dobbiamo allontanarci da da questo spirito qui che che oggi ci ha dato dei frutti e dei risultati importantissimi. Abbiamo tre partite eh per mettere ancora lavoro per migliorare le cose che eh che si possono migliorare e poi vediamo insomma cosa cosa riusciremo a fare nei 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 playoff.